cari amiche e cari amici di salvo 5.0 benvenuti a questo tutorial dove cercherò di dimostrarvi come è stato costruito tutto questo strumento che utilizzo per andare in giro nelle piazze allora diciamo che la base di partenza è questo spallaccio questa struttura che una struttura che è stata comprata quindi non è artigianale anzi è professionale e anche molto costosa considerate che costa circa 1000 euro ecco è uno spallaccio che è stato progettato in germania fatto interamente in alluminio quindi molto leggero e che permette di fare delle riprese molto stabili lo spallaccio diciamo che finisce qui dove c'è questo manubrio dove io tengo l'impugnatura che mi permette di avere delle di fare delle inquadrature molto stabili anche in movimento invece la parte che è stata aggiunta in modo artigianale comincia da qui da questo supporto questo qui è un accessorio dello spallaccio questo qui nero con questo pomello rosso che vedete ma a partire da qui con due bulloni con queste due viti praticamente è stato aggiunta una struttura in alluminio quindi comunque molto leggera fra l'altro come potete vedere adesso mi giro la struttura è stata tutta bucata in modo tale che abbia un peso il minore possibile mantenendo comunque una certa robustezza ecco questa struttura serve per alloggiare il tablet il tablet praticamente il mio studio televisivo mobile come avete già visto in un precedente tutorial il tablet è collegato tramite questo spinotto qui questo spinotto verde è collegato praticamente alla parte audio attraverso questo cavo va al mixer che vedete che è collegato con una con una normale vite fotografica allo spallaccio che ha al punto alcuni le possibilità di mettere alcuni oggetti grazie alle viti fotografiche e quindi c'è diciamo l'uscita del mixer che va all'ingresso del tablet poi vabbè c'è il controllo cuffie come vedete io indosso una cuffia che è molto utile per controllare che l'audio sia a posto perché questo mixer può gestire due canali un canale che serve per il microfono questo qui che vedete al mio petto che serve proprio per riprendere la mia voce come sto facendo in questo momento è un altro canale invece che utilizzo per il famoso gelato che in questo momento non utilizzo con un normale microfono al gelato per riprendere la voce delle persone intervistate altra aggiunta molto importante è praticamente la telecamera allora si parte da questa presa usb perché una normale webcam che con questo cavo che io per comodità ho arrotolato qui alla struttura dello spallaccio bene questa telecamera è collegata tramite un braccio che viene chiamato volgarmente braccetto magico perché grazie a questo pomello allargando l'avvitatura di questo pomello lui si può regolare in tutte le direzioni poi una volta che avete trovato la posizione per voi ideale stringete questo pomello e lui rimane bloccato in questo modo il colpo di genio dov'è nella calamita che nemici ecco visto che siamo in un momento in cui nicola tesla è per noi molto importante non poteva mancare una calamita e infatti grazie a un'idea del mio amico partner sebastian rimondi che poi anche colui che mi ha regalato lo spallaccio che vedete praticamente ci sono questi magnetini ho comprato tre dischi magnetici vedete che sono praticamente incollati magneticamente alla telecamera che ha un supporto ricoperto di plastica ma ma con un'anima in ferro e a sua volta queste calamite a loro volta vengono praticamente appiccicate ecco vedete a praticamente proprio al supporto a vite dove io ho regolato con queste renelle ho regolato l'avvitatura in modo da far sparire la vite che usciva e quindi la telecamera viene praticamente incollata magneticamente qui questo mi dà il vantaggio di fare di fare delle delle riprese grazie a questa telecamera di fare delle riprese in movimento ecco io con questa telecamera semplicemente ruotandola posso fare una una rotazione a 360 gradi di tutto l'ambiente circostante ecco credo che questo sia veramente molto molto importante e tutto sommato mi permette di fare questa rotazione in modo anche abbastanza fluido perché la telecamera rimane fissata grazie alle calamite quindi si muove solo su un asse verticale e quindi una rotazione sul piano orizzontale e in questo modo io posso inquadrare anche una persona un'eventuale persona intervistata al mio fianco posso fare una carrellata eccetera mentre posso sfruttare le altre telecamere come per esempio una telecamera frontale del tablet come vedete in questo momento oppure la telecamera posteriore del tablet per inquadrare quello che si trova di fronte a me che in questo momento vabbè è lo schermo il pannello salvo 5.0 bene questo è tanto io spero di non essere di non essermi dimenticato niente di importante e che trovare utile questo tutorial per capire come è possibile utilizzare spallaccio tablet telecamera esterna mixer eccetera se desiderate fare anche voi le vostre dire in giro per il mondo ecco avevo dimenticato una cosa molto importante il tablet per poter essere alimentato e avere un'autonomia sufficiente e appunto alimentato tramite questo cavo che è quello un cavo normale che io ho comprato con la presa per 12 volt perché naturalmente esiste la versione a 220 volt per collegarlo all'alimentatore appunto per la tensione di rete ma esiste anche la versione a 12 volt quindi tramite questo cavo che va nello zaino alle mie spalle posso avere una batteria tampone a ioni di litio a 12 volte che mi alimenta il tablet dandomi un'autonomia di 4 5 ore nello zaino naturalmente oltre alla batteria per il tablet ci sarà anche un'altra batteria a 5 volt questa volta per alimentare il router 4g che mi serve per la connessione internet credo veramente di non aver dimenticato nulla vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo nelle piazze di tutta italia per il pegoioni italia torra ciao